Il Neuromed apre le sue porte ai giovani studenti. Con alla guida del corpo docenti, la preside Elvira Busà, 50 alunni del liceo scientifico Ettore Majorana di Orvieto hanno visitato le strutture dell'area tecnologica dell'IRCS di Pozzilli. Obiettivo? Quello di fornire ai ragazzi un contributo di orientamento in vista delle prossime importanti scelte nel campo degli studi universitari o anche nel mondo del lavoro. Ad accogliere la scolaresca il dottor Edoardo Romoli, direttore sanitario del Neuromed, e l'ingegner Fabio Sebastiani, responsabile dell'area ingegneria clinica di quell'istituto. Quest'ultimo, nel suo intervento, ha illustrato ai giovani giunti dall'Umbria le modalità di funzionamento della struttura. La scelta del Neuromed, operata da questa scuola, che si propone di fornire ai propri alunni utili strumenti ai fini di un consapevole e mirato orientamento, ci onora e inorgoglisce, ha sottolineato Romoli. Il responsabile sanitario ha colto l'occasione per porre in risalto l'elevato standard qualitativo che caratterizza l'area didattica del Neuromed. L'area didattica e formativa del Neuromed è un'area importante in cui si formano molti giovani che poi trovano sbocco occupazionale. E sugli obiettivi specifici dell'iniziativa di oggi? Quello che interessava di più era far capire come oggi nelle moderne organizzazioni sanitarie le varie figure professionali, medici, infermieri, ma anche ingegneri clinici, fisici, psicologi, insomma varie professionalità, hanno la necessità di integrarsi fra di loro per ottenere dei risultati che siano poi utilmente trasdati al paziente. E questo credo che sia l'occasione buona e la sensibilità della preside e del corpo docente sta a dimostrare che evidentemente anche nelle scuole questo concetto comincia a farsi strada.